Buongiorno, Moversini Toscana, Mauro Ciutini. Code per un chilometro sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, mentre in direzione Firenze ci sono anche qui code per lavori tra Montopoli, Valdarno e San Miniato Basso. Si segnala una perdita di materiali sulla A1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Ci spostiamo sul statale 223, quella di Paganico, e chiusa una corsia per lavori tra l'incrocio di Civitella Marittima e Paganico Nord in direzione della Rotatoria per Grosseto. Rallentamenti ancora sul raccordo Siena-Firenze dopo un incidente avvenuto prima dello svincolo di Colle Valdelsa Nord in direzione di Siena. Ed è tutto per il momento, Moversini Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi. Grazie a tutti.